che poi c'è sta tradizione pure no legata al cibo qui in italia che fa molto convivialità molta partecipazione condivisione no che pure quando vai a cena da qualcuno pure quando hai finito questi ancora che insistono a propinata cibo e tu dici no grazie come no grazie no grazie sono sazio sazio che porti sazio stai male non sto male c'ho più voglia non c'è voglia ma allora non era buono si era buono però io non c'ho e non se ne esce non se ne esce lo capisci che non c'è via d'uscita e allora ti inventi qualcosa e dici sì effettivamente scusate io sto male a che dicono senza pietà stai male allora devi mangiare e non c'è verso e tu la capisci che non hai scampo e quindi imbrocchi la porta e te defili ma questi soppermalosi questi se la soppresa ok e te dicono almeno portate la frutta a casa che te la magni per conto tuo ma tu non la vuoi quella frutta non la vuoi e cominci a accelerare il passo e cominci a scendere giù per le scale e questi insistono iniziano a tirate giù l'arancia di te vengono da giù pezzo di merda e tu finalmente sei fuori dal palazzo ma tutte le volte c'è sempre qualcuno che si affaccia dalla finestra e te grida un gratuito a stronzo e poi rientra dentro casa e fuori da sé il piancazzocchi al muro